Ciao a tutti voi da Rosi, oggi una puntata ricchissima della nostra vetrina, ricchissima di promozioni in compagnia di Rezzonico Auto concessionaria Opel e la parola passerà subito a Mario e a Vittorio Rezzonico, ciao. Ciao Rosi, buonasera anche da parte mia, puntata assolutamente ricchissima perché questa sera abbiamo un'anteprima, una new entry nella nuova gamma X Opel, per cui non perdiamo tempo e andiamo a scoprirla insieme. Buonasera a tutti, anche da Mario e continuiamo con il nuovo SUV che arricchisce la gamma X di Opel, ecco il nuovo Grandland X, questa vettura per famiglia con 4,47 metri di lunghezza, pensate con 520 litri di bagagliaio, ma entriamo subito un po' nel dettaglio di questa vettura, che questa sera vi presento l'allestimento Innovation, una vettura veramente incredibile, completa di tutto, dai cerchi in lega da 18, i fari diurni a LED, il climatizzatore automatico B-Zona, l'interno misto in pelle e tessuto, il navigatore e anche questa vettura, come tutte le Opel, è dotata del sistema OnStar, il tuo assistente personale 24 ore su 24, puoi gestire la tua vettura attraverso il tuo smartphone scaricando la classica applicazione Apple CalPray o Android Auto, ma di questa vettura c'è anche un prezzo, Vittorio, cosa ci racconti di questa vettura in base al prezzo? Eh sì Mario, ecco la seconda novità di questa sera, il prezzo di Grandland, vi stupiremo perché questa vettura ha un prezzo eccezionale, grazie a un contributo per Rezonico Auto di 5.000 euro, vi possiamo offrire nuova Grandland X a 21.900 euro, sì avete sentito bene, questa vettura ha a partire da 21.900 euro nella versione Advance e in più non è finita qui perché Rezonico Auto ha già disponibili tutte queste vetture in pronta consegna sia con cambio manuale che è automatico, per cui non mi resta che invitarvi presso una delle nostre sedi per provarla su strada e acquistare in pronta consegna nuova Grandland X, ma la gamma X non è finita Mario, andiamo a scoprire l'altra novità del 2017. Ecco la nuova Crossland X, l'auto per tutta la famiglia, in soli 4,20 metri un concentrato di tecnologia e sicurezza Opel, pensate signori anche questo mese questa vettura completa di tutto con climatizzatore, monitor 7 pollici per gestire le tue applicazioni, cruise control, limitatore di velocità e appunto i 4 vetture elettrici ad un prezzo veramente, veramente incredibile. Super offerta anche questo mese, Vittorio raccontaci l'offerta di questo mese. Sì Mario, anche questo mese esageriamo anche su Crossland X. Allora, grazie a un contributo Opel e Rezzonico Auto con la superottamazione fino a 4.000 euro, Crossland X è vostra a partire da 14.900 euro. Sì, avete sentito bene, 14.900 euro. Ma attenzione perché non è finita qui. Per tutte le auto in pronta consegna e vi assicuro abbiamo tutti i colori diesel, Rezzonico Auto vi offre un ulteriore contributo di 1.500 euro di extra sconto per tutti i diesel in pronta consegna. Affrettatevi perché sono solo per poche unità, vi aspettiamo. All'interno della gamma X Opel non poteva certo mancare il nuovo Moacca X, il suo più venduto in Italia. Questa sera ve lo presento nella versione Advance. Versione qui alla mia destra, completa di tutto, dal climatizzatore, massima sicurezza Opel, cerchi legale 17 pollici, touchscreen 7 pollici e soprattutto sistema Opel OnStar e hotspot Wi-Fi di serie. Ma attenzione all'offerta del mese che anche in questo caso è pazzesca perché il nuovo Moacca X da Rezzonico Auto beneficia di un contributo Opel e Rezzonico Auto superottamazione fino a 6.000 euro. Avete sentito bene? Fino a 6.000 euro vi permette di prendere il nuovo Moacca X a soli 16.900 euro. Quindi una vettura come questa a 16.900 euro grazie al contributo Opel e Rezzonico Auto fino a 6.000 euro. Ma non è finita qui perché per tutte le vetture in pronta consegna Rezzonico Auto vi beneficia di un extra bonus di 1.000 euro da scontare sul prezzo. Per cui per tutti i Moacca in pronta consegna extra bonus da Rezzonico Auto di 1.000 euro. Affrettatevi. Mario però Opel ha anche una gamma di SUV da città. Cosa ci racconti? Sì Vittorio ti racconto la mia auto preferita. La Carrox. Una vettura completamente accessoriata di tutto. In soli 3.70 metri ha un concentrato di tecnologia e sicurezza. Carrox. 1.10 in rata. Sia nella versione benzina che GPL. Auto dotata di cerchi in lega. Fari fendinebbia. 4 porte e 5 posti. Bluetooth per il telefono e cruise control. Anche questa vettura qui questo mese il prezzo. Voglio che ve lo dice Vittorio perché è un prezzo veramente veramente incredibile. Sì Mario il piccolo SUV di casa Opel con un contributo Opel Rezzonico Auto fino a 3.000 euro è vostro a soli 9.990 euro. Avete sentito bene questo piccolo SUV completo di tutto quello che vi ha raccontato Mario a soli 9.990 da Rezzonico Auto e soprattutto un'altra cosa importante tutte le auto che vedete questa sera da Rezzonico Auto già in pronta consegna. Vi aspettiamo. Continuiamo con la gamma SUV e ROX di Opel. Questa sera vi presento Opel Adam. Adam ROX Air. Una vettura veramente glamour, eccezionale. Tetto apribile elettrico come potete vedere. Climatizzatore automatico. L'interno misto in pelle e tessuto. Porta USB per collegare appunto il tuo telefono al monitor 7 pollici e gestire le mappe. Bluetooth per il telefono, cruise control e limitatore di velocità. E come tutte le Adam, anche Adam ROX Air usufruisce dello sconto rotamazione Opel e Rezzonico Auto fino a 4.500 euro. Quindi questo mese signori Opel Adam a partire da 9.500 euro. Continuiamo con il nostro cavallo di battaglia Opel. Opel Corsa. Nei soliti tre allestimenti. Advance, Innovation e versione B-Color. Appunto questa sera vi voglio presentare la versione B-Color. Questa versione bellissima. Rosso brillante con tetto nero, specchetti neri e cerchi in lega neri, climatizzatore, porta USB, monitor touch screen, Bluetooth per il telefono, cruise control, limitatore di velocità, pedaliera cromata. Pensate, questa offerta incredibile fino a 5.000 euro di sconto Opel rotamazione e Rezzonico Auto può essere tua a partire da 9.950 euro. Sì signori, questa bellissima Opel Corsa B-Color può essere tua a partire da 9.950 euro grazie al contributo Opel e Rezzonico Auto. Ecco la compatta di casa Opel. Nuova Opel Astra. Disponibile sia nella versione 5 porte che Station Wagon Sport Tourer perché ha bisogno di maggior spazio e con tutte le motorizzazioni benzina, diesel, manuale automatiche. Fra poco anche con la nuovissima motorizzazione turbo metano. Questa sera vi presento la nuova versione Dynamic dal carattere sportivo. Questa vettura alla mia destra presenta tutti gli optional disponibili nella versione appunto Dynamic che sono il pacchetto Opel Cine Life Pack, cioè le minigonne, i cerchi in lega neri e i vetri posteriore oscurati, interno sportivo, tastino sport per cambiare la configurazione del motore, l'Intell Link con il navigatore integrato, sistema OnStar, fenninebbia e climatizzatore automatico Bizzona. Per questo mese Rezzonico Auto vi propone una superottamazione Opel fino a 5.000 euro. La gamma Astra è disponibile a partire da soli 13.900 euro. Ma attenzione non è finita qui perché sia per quanto riguarda Astra ma tutta la gamma Opel questo mese abbiamo un numero importante di chilometri zero per cui andiamo a vedere alcuni esempi di auto chilometri zero con dei prezzi eccezionali però con disponibilità limitate. Andiamo a scoprirle insieme. Come anticipato abbiamo questo mese diversi chilometri zero. Partiamo subito da Opel Meriva disponibili in queste modelli Advance 1400 Turbo GPL in diverse colorazioni. Vediamo un grigio metallizzato e un bianco brillante completi di tutto, climatizzatore, massima sicurezza, cerchi design, da un listino di 22.500 euro, sconto chilometri zero oltre il 35% a 14.200 euro. Per questo mese le ultime unità GPL a 14.200 euro. Nuova Astra, versione Sport Tourer, diesel, 1.6 turbo diesel, euro 6, versione Advance completa di tutto, climatizzatore automatico Bizzona, cerchi design, touchscreen 7 pollici, 4 vetri elettrici, massima sicurezza, da un listino di 25.500 euro, chilometri zero a soli 18.700 euro. Ultima unità disponibile per cui venite a provarla in concessionaria. Abbiamo una Mocca Bicolor, in questa colorazione bellissima, amber orange, completa di tutto, con anche navigatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, clima automatico Bizzona, cerchi lega da 18 pollici, 1.6 turbo diesel, 136 cavalli, da un listino di 29.500 euro, chilometri zero, unica unità disponibile a 21.900 euro. 21.900 euro, nuova Mocca X, Bicolor, super accessoriata. Mario, mi sembra che abbiamo anche diverse corsa a chilometri zero. Sì, Vittorio, proseguiamo con le corsa. Appunto, questa che vedete, 1.2 bicolor, 5 porte di colore bianco, prezzo di listino 16.980 euro, per voi a chilometri zero da Razzonico Auto, 11.100 euro. Proseguiamo con corsa. GPL, 1.4 5 porte nera, con monitor touchscreen, 7 pollici, prezzo di listino 17.660 euro, per voi 11.900 euro a chilometri zero. Ultima percorsa, 1.2 3 porte bianca allestimento Adams, potete guidarla a soli 9.950 euro. Tutte guidabili da neopatentati. Nell'invitarvi a venire presso una delle nostre sedi a Cerro Maggiore, Arconate e Saronno, per provare su strada e visionare tutta la gamma Opel, vi ricordiamo che Razzonico Auto è specialista anche di veicoli commerciali, dove troverete Marco, che vi portare a illustrare tutta la gamma e trovare la migliore soluzione alle vostre esigenze. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci. Ciao. La vetrina dell'Anglo Ciao.